Luca Ribuoli Buonasera. Allora, io sono un regista, mi chiamo Luca Ribuoli, non faccio presentatore. Non sono abituato a fare queste cose di presentazione così, quindi mi aiuterete un po' voi. Vi voglio dire come ho conosciuto Rachele. Tantissimo tempo fa, ma forse sono solo 7-8 anni fa, dovevo fare una serie televisiva e c'era un personaggio femminile che arrivava dalla Francia ed era un personaggio degli anni 70. Non so perché, io amavo i Baustelle, in qualche modo mi sono fatto coraggio e ho chiesto a Rachele se per caso aveva intenzione di interpretare questo personaggio, che era una cantante. Ci sono quei casi in cui uno poi ha fortuna. Nel senso che io incontro a Milano Rachele il giorno dopo una riunione dei Baustelle in cui decidono di prendersi un periodo di pausa. E io lo incontro il giorno dopo. Mi dice, guarda, tu mi chiedi questa cosa il giorno dopo che non abbiamo più niente da fare. E da lì, insomma, è partito il percorso di Rachele come cantante, come solista, ed è il motivo per cui ha chiesto a me di presentarla e quindi lo faccio. Rachele Bastreghi e Susanna Nicchiarelli, altra regista. Poi ci spiegherai perché. Buonasera, buonasera, buonasera. Ciao. Grazie Luca. Come stai? Bene. Allora, noi chiacchieravamo e cerchiamo di riprendere la chiacchierata che facevamo mentre aspettavamo di salire. Susanna. Che ci facciamo qui? Che ci facciamo qui? Ma che facciamo? Ci sediamo o stiamo in piedi? Ah, possiamo sederci? Molto bene. Metto mezzo? Ok. No, perché io ho il mio quadernino che devo prendere. Noi abbiamo i quadernini, ci siamo presi degli appunti, siamo degli studiosi noi, così. Allora, Rachele, il disco mi è piaciuto da morire. Grazie. Io ho avuto poi la possibilità di ascoltarlo un po' prima, lei non lo sapeva, me l'aveva mandato il suo menaccio. Non volevo. Esatto. E quindi lo ascolto da tantissimo tempo, mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto anche piacere scoprire un'evoluzione, tanti tipi di evoluzione. una temporale, in qualche modo da Marie, dalla prima esperienza di Montpetit, era in qualche modo un disco, un personaggio anni 70, mentre qua io ho trovato sonorità fino agli anni 80 e anni 90. Ci possiamo stare? C'è tutto. C'è tutto. Nel senso che ho detto, quell'esperienza lì ovviamente tu mi hai chiamato a fare una canzone in una fiction che parlava degli anni 70, per cui mi sono data dei paletti musicali, testuali, una storia d'amore, di addio, per cui ero un po' bloccata, però mi è servito per sbloccare invece il mio percorso solista. ho deciso da lì di fare un EP, quindi ho scritto altre canzoni, invece qui c'era una chiamata esterna. Dopo anni è venuta la chiamata interna mia, di mettermi alla prova, di uscire dalla comfort zone, di non avere regole, di mettere sul fuoco tutta la carne che sentivo viva dentro di me. Per cui c'è di tutto, c'è l'elettronica, c'è Bach, c'è la drum machine, c'è un'attitudine punk che io ho comunque, nell'affrontare la vita. quindi sono una casinista drammatica, una ballerina di break dance drammatica però. C'è Michael Jackson, c'è Morricone, ci sono anche i Baustelle perché comunque questo è un approfondimento della mia identità, però i fan di Baustelle troveranno, ecco dice qui, allora ho capito cosa faceva Rachele, cosa fa Rachele. È un lavoro molto più profondo su di me. Infatti ogni brano, io ho sentito delle cose di vario genere, me le sono segnate e ho ritrovato… Quanto hai scritto? Sì, sì tanto, perché ascoltando i brani poi ti vengono delle immagini così. E ho ritrovato l'aeroplano in un… Beh, perché le mie canzoni nascono comunque al piano, noi come Baustelle scriviamo tutti e tre, a casa però, ognuno a casa sua. E poi dopo ci troviamo in studio, ognuno mette così sul piatto la propria idea e ci lavoriamo tutti insieme. Però nascono dalla musica, io parto sempre dal pianoforte, da giri di pianoforte, per cui… Poi dopo inizio a aprire il computer stratifico, costruisco il mio mondo sonoro e mi piacciono i contrasti, i contrappunti, mischiare l'acustico, l'elettronica… Insomma… Gioco… L'inizio è un gioco, poi diventa una cosa seria. Infatti torniamo alla cosa che successe allora. Lei mi disse… Io non sono mai stato davanti, io sono componente di una band e sono abituato… Detta così… Detta così è brutto… Non ho detto sopra… Davanti… Eh vabbè… E quindi era la prima volta che si affacciava e rischiava. Quindi secondo me, se vogliamo dire una parola di questo disco, intanto il coraggio di essere te stessa, credo, no? Eh sì, quello che ho cercato e per questo mi sono servita anche di personalità, di film su donne, su donne che hanno fatto la loro lotta interiore, no? Per cercare il proprio spazio, la propria identità e non abbassare la testa, avere il coraggio di essere semplicemente se stessi, questo era. Prima con Susanna parlavamo proprio del fatto che lei ci raccontava che in un qualche modo l'immaginario musicale è stato per tanti anni maschile in Italia, cioè l'immaginario musicale femminile arrivava soprattutto dall'estero, appunto da Nico, da… O da Sanremo. O da Sanremo. O da Sanremo. Sì. Un'anima maschile e femminile che duettavano, questo era molto bello, a me personalmente la cosa che proprio mi piaceva tantissimo, che ritrovavo dei group band che piacevano a me e questa doppia voce… Beh, c'erano Mattia Bazar, c'erano Velvet Underground, lei ha fatto un film su Nico, per questo ecco siamo qui anche tutti insieme, no? abbiamo in comune un po' di cose. La cosa che dicevamo prima è proprio questo, che adesso per chi appartiene alla nostra generazione siamo cresciuti con le musiche dei cantautori, io sono stata una grande amante della musica dei cantautori, appunto da De Gregori, Cuccini, eccetera, però ci identificavamo sempre, anche Vasco, ci identificavamo sempre con il desiderio maschile, no? C'erano queste canzoni con nomi di donna e noi eravamo queste donne… Selly. Esatto, eravamo… Selly dopo un po', però all'inizio eravamo Susanna, eccetera, eccetera… Poi Susanna era il mio nome. No, non lo sei veramente. Però anch'io, quando ho cominciato a sentire la musica dei Baustelle, improvvisamente ho cominciato a sentire una donna… Senora all'estero. No, ero io, cioè una donna che parlava improvvisamente non era più il desiderio maschile, no? Cioè in qualche modo un uomo… Io ero abituata ad ascoltare delle canzoni… Poi qui c'è mia sorella anche che è venuta stasera… Dove? Ciao. E noi ascoltavamo le canzoni ed erano i cantanti che dedicavano a noi le canzoni, no? Non so se capite quello che voglio dire. Cioè noi eravamo quelle donne e improvvisamente cominciano ad arrivare queste canzoni che siamo noi. Cioè io ero già grande… C'è Mario… Gabri… Gabri… Esatto. E effettivamente il problema di identificarsi col desiderio maschile è un meccanismo che insomma è in tutto nella nostra formazione è stata. Cioè l'uomo che parla di te e allora tu sei importante ma poi alla fine la tua voce dov'è? Chi è che dice quello che senti te? Siamo abituati alle voci… che ne so… canarini, interpreti… Sì, perché appunto invece… È difficile pensare a una donna, dare a una donna l'autorità… Sì. Per essere… per partire dalla musica, essere musicista, arrangiatrice, produttrice… Capito? Il suo punto di vista… Ecco questo che invece dall'estero appunto c'era Patti Smith, insomma c'erano invece delle donne che cantavano. La cosa bella che io trovo in questo disco, che è bellissimo, poi ovvio se no non sarei qui… Grazie. È il punto di vista che sento fortissimo, cioè il disordine, perché poi c'è qualcosa forse nelle cose… Sai che è un pezzo che non è andato nel disco, si chiamava il disordine. Veramente? Sì, in qualche modo anche… poi questa cosa un po' per me è stata anche sia Nico che poi anche l'ultimo film che ho fatto, questo fatto del lasciare le contraddizioni irrisolte, no? Quindi di raccontare una complessità quando in realtà di solito si è abituato che il femminile viene raccontato in maniera invece molto semplificata. e questo nel cinema c'è tantissimo, perché poi i personaggi femminili sono la mamma, la solita cosa insomma, la mamma, la puttana, cioè la solita cosa… La moglie. La moglie, la figlia… E invece capire che sei tante cose insieme, sei pazza ma sei anche… c'è la possibilità anche di vivere questa follia in una maniera intelligente, ecco. E questa è la forza che io sento in questo disco. Dico infatti che è un volo bellissimo, liberatorio, ma è faticoso perché vivo in questo mondo, no? Stai… Poi dietro a ogni canzone del disco c'è un personaggio, c'è l'impressione che ci sia una donna dietro a ogni… ovviamente sono io, sì sì sì. Però in realtà c'è una donna dietro a ogni canzone, c'è le ragazze a Roma, c'è questa Laura, cioè ci sono delle persone dietro a ogni canzone. Ci sono anche gli uomini, c'è Ristenton che mi sono… Sì, è vero. Perché è Ristenton? Però c'è il come è Ristenton. Sì, come è Ristenton. È un po' scorbutico, no? E mi sono rivista. Il suo deserto erano le mie notti in cui mi rinchiudevo per cercare di darmi voce e erano un luogo di pace, di guerra dove perdersi per poi comunque rinascere, no? Poi ci stava bene la metrica e sai a volte si fa presto. Cioè nel senso… Io ho pensato ti riferisci a Pari Texas. No, sì, anche… Comunque lui è il caratterista di David Lynch per cui fa sempre quei personaggi lì, un po' un solitario. C'è una cosa che tu dici in un'intervista che ho letto che dici… Io sono pienamente d'accordo anche perché poi l'ho vissuto anche nell'uso della musica nei miei film, che tu dici se la musica deve essere un sottofondo, cioè se la abbassi in macchina no, cioè o la sentiamo a palla e non parliamo oppure la spegniamo perché allora c'è il silenzio che ha un valore, no? E questa cosa secondo me nel disco si sente tantissimo. Perché è un disco che ti mette voglia di ballare, è una musica molto… E' un dramma in discoteca, io l'avevo vista così. E' un dramma in discoteca perché si affronta… Un dramma in discoteca, scusate io parlo veloce, sono toscana, toscanaccia direi. Però perché comunque affronti anche delle problematiche, delle tematiche pesanti, no? Anche le fasi up and down, la depressione… Insomma… Però c'è sempre una musica che… Un contrasto… Io lavoro bene con i contrasti, mi piacciono le contraddizioni. Cioè mi sento… Sì, io Rachele, che tra l'altro l'ho anche diretta come regista, cioè… Era divertente. Mortacci… L'ho sempre vista come una creatura umana a più dimensioni. Cioè è triste ma è allegra. È profonda ma è… Scema. 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 È vero, anche quello. Scema. Scema. È come se fosse una ragazza che cerca sempre di fuggire per andare a ballare da qualche parte, però è anche una che ti colpisce con delle frasi che ti lasciano… Una ragazza che beve… Tu hai detto… Esatto. C'è un'intervista in cui hai detto io o non esco di casa o se esco… Faccio fatica uscire. Se torno… Infatti mi hanno intervistato e mi hanno fatto fare una brutta figura perché mi hanno detto a Radio DJ, scusate se dico nomi, che quando loro rimanevano soli nel locale si giravano chi c'era, l'unica persona che potrebbe esserci ero io. Ma io chiudo i locali, mi pagano, ho le chiavi. Sì, 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 lo capisco. Mi piacciono tante cose. E poi c'è qualcosa di molto visivo nella tua musica. Questa è la cosa che… Anche il cinema mi piace, mi dà questa… Cioè, sono canzoni che vedi. È una cosa molto forte questo. Questo film anche nei pezzi tuoi nei Baustelle, ma poi in generale, è una musica molto visiva. e questo disco è così. Cioè, ogni canzone ha delle immagini molto forti. Questo è molto bello. Infatti, mi ha colpito sempre un'intervista tua in cui tu dici che ti piaceva la breakdance e che la facevi negli anni Ottavio, che per noi… Ma ancora lo faccio, eh. Questo disco lo ballo in casa, perché un anno chiusa in casa, ma io sono comprata la… Come si chiama la luce del disco? Ah, la stroboscopica. Sì, sì. Mi sono attrezzata, era sola, specchio lungo e via. È una festa. No, ma la breakdance… Poi lo spaccavo lo specchio, però va bene. La breakdance ho un infinito rispetto per chi parla la breakdance, perché sono cresciuta negli anni Ottanta. Quindi, per me quando hai detto che sai fare… Cioè, lei sa fare tipo il serpente, il moonwalk, sa fare tutte quelle cose lì. Per me è una cosa, non lo so, incredibile perché non sono mai stata capace, ovviamente. Però mi ricordo questa cosa negli anni Ottanta, che si creava a un certo punto il cerchio e tutti battevano le mani e c'era sempre qualcuno al centro… La lavanderina… La lavanderina… La lavanderina… La lavanderina… La lavanderina… Per i povretti… Chi è che non è impazzito ai suoi concerti, ai loro concerti, insomma… No, io sono molto fisica, le immagini sono molto fisiche… E questo si sente, secondo me, nella… Si sente molto nella musica, negli arrangiamenti, si sente questa cosa. È una cosa… Infatti io ero un po' in crisi, perché è molto difficile parlare di musica. Cioè io ho sempre questo problema, anche quando devi fare un film e devi parlare con i musicisti, come parli di musica? Dici, no, voglio una cosa più tum tum tum… È un po' come parlo io, non è che io miglioro, essendo musicista… Però la cosa che è forte è proprio questa… È molto difficile spiegare come una musica possa essere visiva, però secondo me, appunto… Poi l'avrete sentito il disco se siete qui, se non l'avete ancora sentito… E la componente visiva di quella musica è fortissima… Io non so come questo succeda… Naturalmente avviene grazie al testo… I testi, ovviamente, sono importanti e sono dei testi molto evocativi… Io penso che venga da un'urgenza di racconto… Penso che tutto… L'arte… Se hai un'urgenza di raccontare trovi il modo… E la verità… Io credo molto in questa cosa di essere sinceri in qualche modo, no? Sì, anche io ci credo… Anche se poi sono incoerente… Ma quello che ve ne frega… Sì, però nell'incoerenza… Io cercavo… Cercare ogni volta di… Il denominatore comune dei tuoi brani… E c'è sempre l'emozione… Sì… Ed è questo che rende visivo… E se non la provo io non lo faccio uscire un disco… Infatti ho spettato 43… Stanotte, a mezzanotte, compio 44 anni… Eh, sono giovane, eh… 22 per gamba… Ho 44 gatti… Vabbè, però… Ho spettato tanto anche per fare un disco… Eh, lo so… Mi fratello… Dai, sta zitto… 43 metri… Però questa cosa che dici della sincerità… Per me è una cosa… Non so se tu hai mai letto i Peanuts… Cioè, Linus… Snoopy… Sì… Cioè, Snoopy… Linus… E c'era questa cosa del grande cocomero… Che a me mi ha ossessionato sempre… Per tutta la vita… Cioè, che Linus… Dice che il grande cocomero… Compare nel campo dei cocomeri più sincero… Non nel più bello… E io questa cosa l'ho pensata sempre… Tutte le volte appunto… Tutti i film che ho fatto… Che la sincerità è la cosa più importante… Più della bellezza… Molto di più della bellezza… Sì… Ed è vero che… Il disco è molto sincero… Cioè, si sente che c'è una… Cioè, questo è quello che ti emoziona… È sentito da me… Ma la cosa che ti crea l'emozione è quello… Non la perfezione… Perché anzi… La sincerità a volte comporta anche il disordine… Quello che dicevamo essere il disordine… Cioè… La rottura di una struttura preconcepita… La struttura dove tutto è sotto controllo… Di solito non è sincera… Di solito è… È controllata… Che è una cosa completamente diversa… Il disco… Il disco è un disco che… Che apre le porte al disordine… A quelle… A quelle sorprese… Ogni pezzo… Ha una sorpresa… Alla stupirsi… Sì… È una cosa principale anche… Però nel disordine… Io devo stupirmi… Di me stessa… Sì… Perché sennò fai il compitino… Sì… Sorprende… Invece devo rimanere io… E sterrifatta a volte… Sì… Allora capisci che è la strada giusta… Sì… Ha una produzione artistica… Devo sterrifatto? Molto… Ogni brano… No… Ha una produzione artistica incredibile questo disco… Cioè… Ha dei suoni… C'è Mario Conte qui che è un coproduttore del disco… Sì… Che poi suonerà con me… Dopo… Eh vedi… Anche trovare le persone giuste… È importante… Sì… Ha un suono… Incredibile… Ha dei riferimenti… Mi è piaciuto… Conoscendoti un po'… Ho immaginato dove… Dove sei andata a pescare… Quali possono essere i tuoi riferimenti… Così mi sono divertito a cercarli… Ho riconosciuto dei suoni… Dei modi di… E poi ci sei sempre tu… Questi brani che non smettono mai di muoversi… Ma sai… La paura di essere diversi… Io sono in mezzo… Quindi posso giocare con tutte le mie sfumature… E non perdermi di vista… È questo che volevo fare… Quindi poi… Cioè… Dal violino vai al casino… Scusate… E questo volevo… Sono… Piuma e ferro… Come diceva Verdone… Stamano può essere il piuma e ferro… È vero perché… E non bisogna avere paura di essere… Anche incoerenti a volte… Certo… Poi c'è anche il parlato… Perché il parlato di… C'è una… Appunto una canzone che c'ha… C'ha una poesia di Anne Sexton all'inizio… E quindi c'è ovviamente il dialogo con tutta quella… Quella generazione che poi è Silvia Platt… Anne Sexton… Il pensiero più più… Che hanno fatto tutta una fine terribile… Però sono queste donne degli anni sessanta… Queste casalinghe streghe pazze… Che… Che hanno vissuto seguendo… Sono le nostre madri, no? Che hanno vissuto seguendo delle regole… E… Stando nell'ombra… E in qualche modo sono impazzite… Chi è che… Insomma… Non ha avuto… Una mamma un po' pazza… Diciamo… La nostra generazione è un po' così… Perché… Non venivano fuori, no? E quindi… Questo… Questo… L'ultimo pezzo del disco… Che ha questa poesia di Anne Sexton all'inizio è… Cioè il parlato fa parte… Il sussurrato fa parte, no? Dei linguaggi usati nelle canzoni… Che sono molto emozionanti… Questi passaggi… Ma io devo dire… Quella cosa lì l'ho ripresa anche da Battiato… Che purtroppo ci ha lasciato poco tempo fa… Quest'anno è stato traumatico… 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 Milva… Cioè io sono una milvona, no? No… Erano punti di riferimento… Sembra strano… Anche Nada… Nada è viva però… C'è un brano che è Nada… Infatti mi ha preso un colpo… Nada, lasciamo stare… Però… Certo che… C'è ancora… No, però è vero… Io c'ho un disco di Morricone… Che canta Milva… Che è stato uno dei miei… Così… Messo lì… Io per Battiato ho sofferto come un cane… Di più di tutti… Però ora vabbè… Parliamo di Morricone… Adesso dai… Battiato… Ecco… Il periodo sperimentale di Battiato… Gli anni 70 di Battiato… Sì, sì… Quello si sente tantissimo… Mi è piaciuto tutto… Però ecco… Quel coraggio di fare cose senza dire… Esatto… Ritorniamo al coraggio… È un radiofonico… Non c'è il ritornello… C'è… Entra dopo… Perché siamo entrati in una fase… Anche il coraggio di giocare con… Un minuto deve entrare il ritornello… Ho capito… A me un minuto… Non ce la fa arrivare… Questo è quello che dico io… Cioè… Nel senso… È vero… Questo è quello che dico io rispetto… Tagliare, fare… In base a cosa… Tanto poi non si vende uguale… Esatto… Questo è quello che dico io rispetto alla rottura della struttura… È lo stesso… Giano Nannini a me mi fa un pippo… Gli voglio bene… No… La rottura della struttura è la stessa cosa con il cinema… Ci sono mille regole nella scrittura di un film… Ci sono i tre atti… C'è il protagonista che deve essere sempre attivo… Ci sono mille regole… Però poi la verità… E questo vale anche per la musica… È che il pezzo… Ogni pezzo è unico… Ogni film è unico… E nessuno sa cos'è… Che magicamente… E non è sicuramente la regolarità… E non è sicuramente il controllo nella struttura… Per questo la sperimentazione… È la cosa più interessante… Questo è molto sperimentale… No… Però appunto stiamo parlando del disco… No… Il discorso di rompere le aspettative… Secondo me nel momento in cui il pubblico… Che può essere l'ascoltatore… O il pubblico che sta in sala… Viene sorpreso… E viene preso la sprovvista… È il momento in cui tu entri nella vita delle persone… Davvero… Io voglio prendere una rivincita… Perché per anni… Io poi… Mi hanno detto… Ma quella stronza… Se la tira io… No… È la timidezza… Capito… Quando a volte vieni… Era solo timidezza… Poi cresci… A 50 anni… Un po' tardi però… Cioè inizi a capire chi sei… E quindi… Vieni travisato spesso… No… Cioè l'unica cosa è andare avanti… Non so come… E anche un po' la toscanità… Perché voi che devo fare… Sto a Milano da 12 anni… Anni… Voi sembra sempre che vi sentite… Però… No… L'uomo… 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 O la donna… Esatto… Lo devo fare sta battuta… La mamma… La mamma… O il babbo… No… Però c'è… C'è della drammaticità sempre… Della crudeltà… E della dolcezza… Della timidezza… Cioè… Le persone vanno conosciute… Se vuoi… Cioè… Questo… Impari da grande a… Cioè io… Mi sono servita un po' di letture… Di questi personaggi… Estremi… Perché poi hanno fatto tutte le brutte fini… Io ancora sono qui… E quindi… Pensiamo a Nada… Tra l'altro… Però… Guarda… Non voglio dire niente… Non posso… Non posso… Sto pensando una roba… Da un po' di tempo… Per cui… Verrete al nostro funerale… Però… Mi sono circondata di donne… Che hanno sofferto… Hanno parlato di sofferenza… Perché anche questo… È un tabù… Parlare anche delle nostre fragilità… Che le fragilità poi… Possono diventare invece… Potenza… Rinascita… In qualche modo… L'accettazione… Non avere paura di… Non parlo solo di amore… C'è una canzone che parla d'amore… Ma perché… Avevo bisogno di… Andare più giù… Non troppo… Però… Però io credo che comunque… Quando si parla di… Appunto… Io lo so… Perché l'ultimo film… Purtroppo… Ho fatto il film su una persona… Che alla fine del film… S'ammazza… Infatti parlano… No… E appunto… Ansexton… Sylvia Plath… Sono delle donne che hanno fatto delle film terribili… E io credo che… Che la cosa bella sia proprio il salvarsi… Il sapersi salvare… La sopravvivenza… E questo è il messaggio più importante… Perché esiste la possibilità di salvarsi… Esiste la possibilità di riconoscere… La follia… Ne parlavamo oggi pomeriggio via Whatsapp… Esiste la possibilità di… Eh… Di essere pazzi… E farcela comunque… Cioè di riconoscere le proprie contraddizioni… E riuscire comunque… Poi la pazia è libertà… Esatto… Io l'ho sempre associata… Non la follia come uno… Esatto… Il folle che fa… Fa quello che vuole… Libero… Non fa del male agli altri… Finché non fai male a nessuno… Certo… E sei… Bello… È quello che ti aditano del… Quindi parlo di purezza… Parlo di… Sì… Per cui comunque quando ti misuri con i personaggi femminili importanti della storia… Ti misuri sempre con dei personaggi che in un modo o nell'altro sono dolorosi… Hanno delle vicende… Ti senti meno sola… Ti danno coraggio… Ti senti meno sola… Però poi alla fine magari hanno fatto delle fini terribili… Per cui ti angoscia questa cosa… Noi abbiamo passato i 27 anni eh… I critici dei… Esatto… Dei rockstar… Mi è dispiaciuto un po', però… Io avevo sempre detto non arrivo a 30… Poi sono arrivata… Sì… 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 No… Per carità io sono attaccata alla vita in un modo… Invece… Ma anche te… Molto più di prima… Sì… 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 Perché impari a veicolarla, no? A non essere vittima della tua vita, quello… Sì… Per cui è anche bello l'idea di dare un messaggio di liberazione… Di… Di… Di forza… Ecco… Nonostante appunto poi uno si rifà magari a delle figure che invece sono state distrutte da un mondo che… Che ancora non era pronto a riceverle… Già è difficile… O ancora oggi… È difficile ancora oggi affrontare certi argomenti… Penso agli anni sessanta o ancora prima… Nell'ottocento come Miss Marx… Sembra nell'ottocento come quando tu eri… Tu… Prima hai fatto la break dance e mai indicato… Conoscete Serafine quella… C'è la persona che fa la fiction… Tu che… Conosci? No… Lei va nel tempo… Viaggia nel tempo… Ah… Sì… 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 Non siete aggiornati… Tu stasera sei sottomesso dalle donne… Sì… Sì… Lo stiamo travolgendo di parole… Un applauso… Ascoltando il disco ho sentito un disco profondamente femminile… Con tematiche femminile… Quindi… Però… Ognuno di noi ieri ero a un aperitivo con uno scrittore… Che si chiama Paolo Di Paolo… Che ho visto qua presentare tante cose… E Paolo mi diceva proprio questa volta… Basta solo che cosa arriva alla gente… Che cosa arriva a te… Che cosa ne leggi tu… Io cercavo di capire che cosa ho letto di questo disco… Nonostante leggevo delle tematiche che non mi sono vicine… Mi possono vicine con interesse… Ma non mi sono… Non possono essere… Non mi sto arrabbiando… No… Non ti arrabbiare… No… Allora io cercavo di capire qual era il messaggio che arrivava a me… Ed era principalmente… La libertà di essere te stessa… È certo… E il coraggio di esserlo… Anche te stesso… Sì… Te stessa… Te stesso… Che cosa la sia… E… Per quello ho parlato di un essere… Una creatura… E… A più dimensioni… Perché lei lo è… Cioè… È tante cose… È difficilissima definirla musicalmente… Appunto… È un disordine… Incredibile però… Che ha una forza… Vieni in casa mia… Vieni… Vieni… Vieni a domani in casa mia… Ok vengo… No… Però vedi… E ho pensato… Mi ha fatto venire in mente… Insomma… Nei miei miti personali… Quando sono state quelle persone che a un certo punto della loro vita… E più o meno alla tua età… Hanno capito che dovevano fare qualcosa di importante… Di sincero… Di essere sinceri fino in fondo… E mi è venuto in mente… Faccio esempi grandissimi… Te li paragono… Sei contenta? Fellini 8 e mezzo… È un momento in cui lui ha 42 anni… Dice… Io ho l'esigenza di dire… Sono questa cosa qui… E voglio dirla… Sono un bugiardo… Voglio dirla a tu… Aveva solo 42 anni… Sì aveva solo 42 anni… Incredibile… Italo Svevo… Che è un altro dei miei miti… L'ha fatto… Ha scritto la coscienza… Però ha oltre i 50 anni… Era tardi… Ma in Italia siamo così… Ha avuto il coraggio di farlo… Ho pensato… Ma avrò una donna… Che per me è stata… Per me è importantissima… È stata importantissima la mia formazione… Margheriti Orsenar… E Alexis e il Trattato all'Ottavana… Che è il primo racconto che io abbia letto… Fulminante… Bellissimo… Travolgente… Era la storia di una donna nel 1929… Di una ragazza… Che a causa della morte del padre… Aveva 28 anni… Decide di scrivere… Il coraggio di scrivere… Cioè di… Di mettere un'impronta nella propria vita… Di dire… Esisto anch'io… C'era la figura di mio padre… Che mi accompagnava ovunque… Mio padre non c'è più… Adesso io devo fare qualcosa… Per essere me stessa… E scrive però nel 1929… Un racconto… Dove… Un musicista… Ma è un uomo… Dichiara… In questa lettera… In una lettera… Che è il romanzo… Dichiara… Alla propria moglie… Di essere omosessuale… E… In quel racconto… Ci ho rivisto molte cose di… Di… Di psychodonna… Cioè il coraggio… Il coraggio di essere se stessa… Di dichiarare la propria omosessualità… Una battuta… La moglie ha detto… Ah… Ho capito perché… Però a me ha dato… A 18 anni… Quando ho letto quel racconto… Una… Una forza incredibile… Beh… Io credo… Guarda… Questa cosa che dici è interessante… Perché… Le storie di… Di coming out maschile… Diciamo… Perché all'inizio era solo maschile… Si parlava solo di quello… Quando eravamo piccoli noi… Però era una cosa che davano tanta forza… Eh… Appunto… Cioè io mi ricordo di essermi identificata… In tante storie così… Proprio perché il coraggio di… Essere quello che sei… Parlava moltissimo anche a noi donne… Nonostante… Si parlasse di omosessualità maschile… Che in qualche modo non… Però era… Era… No… La cosa che a me mi preme… Il discorso per cui ti ho detto all'inizio… Che… Mi stavo arrabbiando… Arrabbiando… Invece poi ho fatto un discorso bellissimo… Non sono più arrabbiata… Sono contenta… No… Era il fatto che in qualche modo… Al meglio quello che non sopporto… Quando anche a me mi chiedono… Ah ma… Allora il femminile… C'è uno sguardo femminile… Poi se non dovessimo ascoltare i dischi degli uomini… No… Perché quello che io voglio dire è… Ma perché io devo essere femminile… Cioè io devo fare film femminili… E gli altri fanno cinema… Io faccio cinema… Cioè voglio dire… Questa è musica… Nel senso che non è… Prima ancora di essere musica femminile è musica prima di tutto… Quindi un pochino ti dispiaci sempre… Perché poi c'è sempre quella cosa che ti dicono… La differenza… Etichette… Come fai le cose per le donne… No… Col cavolo… Cioè io per esempio i miei film io voglio che li vedano gli uomini… Cioè li metterei tutti legati a vedere… Anzi… Anzi… Perché voglio che sappiano delle cose che non sanno ancora… Certo… Ma anche di loro stessi… Perché poi ci sono… Cioè gli uomini hanno tutti un lato femminile… Ma anche io… Infatti quello che ti volevo dire è che ho detto nelle interviste… Che… Quando ti metti a nudo… Vai a fondo… Ti interroghi… Ti indaghi… No… Io ho trovato una forte parte maschile… E ce l'ho… Quindi è un disco sì… Scritto da una donna… Per la donna… Sulle donne… Però… Parla anche agli uomini alla fine… Cioè… E comunque ci sono gli uomini dentro un disco… Cioè… Certo… Non è così… Scontato… Nel senso che… Io sono molto… Forse sono più maschio che femmina, no? Dentro… Cioè questa anche… Questi contrasti vengono da questo gioco qua… Da una parte c'è la timidezza… Dall'altra parte c'è la determinazione… Da una parte c'è la melodia… Dall'altra parte c'è il rumore… Del casino… La forza… La sensibilità… Il pianto… Il dramma… La comicità… Cioè fanno tutte parti… L'uomo ha sempre il problema… E ce l'avete anche voi… Cioè avete mica tutti i difetti solo… Certo… No… Avete qualche pregio… La parte femminile… Il pregio… Sì perché poi c'è sempre comunque… L'uomo ha il problema di entrare in connessione con la propria fragilità… Di esibirla… Di non sapere… Io lo so… Cioè appunto chi ha un figlio maschio lo vede… Cioè che appunto devono fare i forti e non possono piangere… Il rosa no… Il rosa sì… Esatto… Che magari invece gli piace… Aiutiamolo… Sì… Io penso che dobbiamo solo… Possiamo solo partire dalla nascita… Sì… E educare i figli in un modo aperto e libero… Però il punto è che tutte le anime… Sono spugne… No… Hanno dei componenti… Delle parti diverse… In qualche modo noi arriviamo e raccontiamo una cosa che non è mai stata raccontata… E che è liberatoria per tutti… Maschi, femmine… Qualunque cosa ci sia insomma là fuori… Perché appunto il punto è che c'è stata tutta una parte di realtà… Che per tanto tempo non è stata raccontata… È stata mitizzata la forza… Il controllo… Il rispetto invece a una fragilità… Che noi invece abbiamo gli strumenti per tirare fuori… Proprio perché siamo come quei… Insomma le minoranze… Siamo un popolo che è stato sottomesso per tanto tempo… E quindi abbiamo la forza di tirare fuori un messaggio che appartiene però a tutti… Dobbiamo avere coraggio a farlo noi donne… E voi donne… No, ve lo dico a tutti perché a volte vi dico… Il maschilismo è un po' colpa delle donne, no? Perché noi donne dovremmo essere più equalizzate, no? Più unite… Invece non vedo tanto questa cosa… E questo mi dispiace… Quindi io invito sempre… Io non risponderò a questa cosa… Siamo donne… C'hai paura di me però… Oltre alle grandi c'è di più, è vero… È una cazzata però è così… Sì, sì, è vero… Che poi alla fine… In fondo quella canzone… No, sto scherzando… C'è chi dice che non muore… Oggi non… La sai a memoria… Perché poi io la so a memoria… Sto facendo dal siparietto a fine concerto… Sì, sì… Però è così… Torniamo alle canzoni un attimo… Torniamo alle canzoni… Io non posso… Non la conosco… Scusa, passa oltre… Non posso toglierla… Next, next… Devo continuare a sentirla… Sì, sì… È sorprendente… Ed è uno di quei brani in cui secondo me lei… C'è tantissimo… Cioè parte in un modo… E poi arriva il ritornello e dici… Ma che cazzo c'entra sto ritornello? Pseco donna… Io posso fare che mi pare… Scusa… L'ho scritto così… Per questo… Ed è bellissimo quando si apoca il ritornello… C'è afro… C'è ritmo… C'è per cui… Che ti devo dire… Salco donna è una follia totale… È veramente un viaggio… Io è un divertimento… È un divertimento… Come Harry Stanton… È una delle mie preferite… E lì è un po' il legame… Ecco, col passato… Diciamo, no? Con l'innovazione… Ma questa cosa del tempo… C'è tantissimo nel disco… C'è questo rapporto con il passato… Che è una cosa che… Che… Io riconosco… Che a me mi ossessiona… C'è sempre… E con la musica è bellissimo… Perché basta che tu metti un suono… Metti un ritmo leggermente diverso… Ma che viaggi… E chi ascolta… Crea un'evocazione… Che non… Non sa neanche perché… Però è… Viaggi nel tempo… Ascoltando una canzone… Questo succede tantissimo… È vero, è così… Proprio… Ritorno al futuro, no? Il passato… Cioè… Esatto, sì… Questa è la potenza della musica, no? Se non so se è mai successo… Come parte una canzone… C'è un bambino che piange… No… Lei che guarda i video… Ti ho visto, sa… Ti ho visto guarda i video… Si sente… Dove? Come ti chiami? Vicky… Smettila… Su… Cioè stai guardando un video… C'è il bambino che piange e viene dal tuo telefonino… C'è il bambino spero… Volevo guardare il video una… Cos'era? Ah… Io piangevo… Quando? Vabbè… Ma io sento invece piangere… Credo che dobbiamo chiudere… Siamo a 35 minuti… Quando metti una canzone… Una nota, no? Che tu torni… Dove sei sei… Quella canzone ti riporta… Ancora… Scusa, continuo a sentire… Si arrestano… Un bambino che piange… Eh ma non so… Non è bambino… Non è nostro… Non è un no perché ce l'ho… Eh… E allora… Scusa… Quanto vai… Caticoso… Vabbè… Canterò… Male però… Male… Per colpa di Vicky… Quando metti i play… Ascolti una canzone… Basta un riff… Un ritornello… Sì… Ti ricatapunta proprio… Esatto… Da bambino… In spiaggia… Sì… Tantissimo… Questa è la potenza micidiale… Ti fa sentire fidanzato con la… Col cane… Con la prima cosa… Sì… Rividi tutto… Basta poco… Quindi è una cosa sulla memoria incredibile… Sai cosa ascoltavo… L'altro giorno… Qualcuno… Cioè… Dalla radio è uscito… I In The Sky degli Alan Parson Project… In The Sky… Cioè… Improvvisamente ho visto… Ho visto… La macchina di mio padre… Il… Cioè… La musica ti proietta indietro nel tempo… In un modo… E anche avanti a volte… Anche avanti… Spero… Spero… Sì… Sì… È vero… È vero… Avanti… E qui telefoni… Pronto… Allora… Una spinta mi ha dato proprio un calcio… Non ti ricordo… L'interiore viene da lontano… No… E poi… Comunque… Arrivi a fare a 44 anni un disco… Perché avevo bisogno… Per come io intendo la musica… Che è una cosa molto… Molto… Per come sono io cacciarona… Molto seria invece… Quindi… O parlo… Di me… O dico qualcosa… O sto a casa ferma a guardare le tue fiction… Per cui… Vero… Ho sui film… Ho tanti film… Cioè… È vero… Ero in gelosita moltissimo… Scusa… Le mie sono appuntate… Capito… Durano… E quindi sono… Infatti… Io aspettavo… Ho aspettato il momento giusto… Per avere gli strumenti… Per fare il mio disco… Il disco che volevo fare… Con le persone che volevo fare… Essere in grado di gestirlo… Perché comunque sono entrata come coproduttrice… Arrangiatrice… Musicista… Cantante… Cioè… Lavoro che… Ci vuole tempo… Testa… Testa… Urgenza… 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 Poi impazzisci comunque… Però… Tu hai detto… La sincerità è data dall'urgenza… Sì… Una cosa bellissima… Sì… Scrivitela… Fai un film… Perché è vero… Perché è vero… Cioè quella cosa che dicevamo della sincerità è collegata sempre al tema dell'urgenza… Tutta l'arte secondo me… E lì comunichi qualcosa… Sì… Cioè a volte mi piacciono più le cose che non mi piacciono… Che fanno girare la testa… Sì… Piuttosto che sentire le stesse cose alla radio… O in giro… Vedere… Cioè… Come quei film che ti rimangono dentro… Cosa che non capisci tu… All'inizio… E poi ci pensi… Oppure devi ascoltare… Il tuo disco però va ascoltato… Eh no… Che devi fare… Mi metti in forno… È verissimo… È verissimo… È verissimo… È verissimo… È verissimo… È verissimo… Entra dentro e non potete più farne a meno… Entra dentro il forno… Al forno no… Ragazzi credo che dobbiamo andare… Sì dai… Vado a mangiare… Lei deve suonare… No devi suonare tu… No… Grazie di essere venuti qui… A voi… Ciao… Ciao… Vorrei una vodka… Una bottiglia però… No aspetta dobbiamo dire una cosa… Ah scusa… Il 30 settembre… Siamo qui apposta per… Così… Lei farà una festa… No farà un concerto… Festa dopo… Ma prima il concerto… E vorrei invitare anche loro a cantare… Capito… Se volete sentirci cantare… Amici… Ci dovete venire… Sarà un evento… No vorrei fare un evento con gli ospiti… Con gli amici… Aspetta che prendo tutto… Poi la festa… La festa dopo… Buon concerto… Ci può dire… Ciao…